Benvenuti alla seconda parte della nostra miniserie dedicata espressamente al giorno dell'infamia, al 7 dicembre 1941, l'attacco giapponese su Perlarboro. Come vi abbiamo spiegato nel primo video abbiamo deciso di realizzare questa miniserie per approfondire, come abbiamo già fatto per altre tematiche, un evento storico estremamente importante e interessante nel panorama della storia contemporanea. Se nel primo video abbiamo approfondito la storia dell'imperialismo giapponese e anche la diplomazia, la politica che ha portato sino alla decisione di attaccare la base delle Hawaii, oggi scenderemo invece in questioni prettamente militari. La ristrutturazione delle tattiche, delle strategie e anche delle forze navali giapponesi tra gli anni 20 e gli anni 30 non può prescindere dall'individuazione di un possibile nemico, che viene individuato ovviamente in due direzioni, una diretta, cioè gli Stati Uniti d'America, l'altra in diretta, ovvero l'impero britannico e i suoi satelliti in zona, l'Australia e la Nuova Zeranda. In terza battuta ovviamente ci sarebbero gli olandesi, ma è una forza estremamente inferiore rispetto alle altre due. Per quale motivo i giapponesi dovrebbero cercare dei nemici? È chiaro, i rapporti di forza vanno sempre valutati in base al potenziale avversario, che in questo caso appunto come abbiamo detto viene individuato in queste due superpotenze, le due maggiori superpotenze navali dell'epoca, come abbiamo già spiegato nell'altro video. Quindi i giapponesi pensano già tra il fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 a delle strategie da mettere in campo in caso di conflitto contro gli Stati Uniti, contro la Gran Bretagna o addirittura contro tutte e due le potenze messe assieme. La prima valutazione che viene fatta dagli stati maggiori è che il Giappone da solo non potrebbe mai vincere una guerra lunga contro queste due superpotenze. È una semplice questione di calcolo, le due superpotenze hanno una capacità economica maggiore che si traduce in maggiore disponibilità di materie prime, di personale e quindi di mezzi e quindi di navi e anche di aerei. Non si può pensare che nel lungo periodo il Giappone possa resistere. Quindi una guerra nel Pacifico deve essere medio breve e di forte impatto. Per questo motivo il Giappone cambia radicalmente la propria filosofia militare. Punta sulla qualità. La qualità innanzitutto degli uomini. Pensiamo all'aviazione navale, all'aviazione imbarcata, il tempo di addestramento e le risorse necessarie per tale addestramento dei piloti delle portaerei, che siano da caccia, che siano da bombardamento impicchiata o che siano aereossicuranti, è estremamente lungo, estremamente duro e chiaramente costoso. Ma produce forse i migliori piloti aeronavali del periodo degli anni 40. Il rovescio alla medaglia qual è? Che per far fronte a un ricambio dovuto a perite sul campo, a ferite o ad altri problemi, ci vuole molto tempo, ci vogliono risorse che in guerra sono molto ridotte e dunque si rende necessario evitare gli sprechi ma soprattutto piazzare colpi ben assestati al nemico in modo tale da non sprecare la singola risorsa. La seconda rivoluzione qualitativa è sul materiale. Viene deciso che, soprattutto per quanto riguarda le grandi navi, cominciare dalle corazzate, ogni unità giapponese di nuova concezione, cioè quelle progettate dalla metà degli anni 30 in avanti, deve essere capace di ingaggiare e possibilmente distruggere un quantitativo fino a 5 volte superiore di navi avversari. È il caso della classe Yamato, cui dedicheremo, soprattutto alla capoclasse, un video apposito che verrà realizzato in seguito e di cui vi daremo notizia. La Yamato viene progettata come una super corazzata capace di ingaggiare e distruggere fino a 5 corazzate americane allo stesso tempo. La Yamato incassa i colpi ma a sua volta può distruggere da grandissima distanza i nemici. È una rivoluzione proprio culturale, quella dei giapponesi, che strutturano il cuore della flotta in quella che verrà diventata nota come la flotta combinata. C'è un insieme tra portaerei di squadra, molto veloci, e altro naviglio pesante ma veloce di scorta, tra cui gli ex incrociatori della battaglia classe Kongo, inizialmente prodotti in Inghilterra per la marina giapponese, ricostruiti e riconvertiti in corazzate veloci. In questo modo la marina imperiale dispone di una forza eccezionale d'attacco, un numero significativo di portaerei con piloti estremamente addestrati e una componente di scorta molto agguerrita e difficile da distruggere. Il tutto ha una elevata velocità di navigazione. È una flotta eccezionale, è una forza d'attacco pensata appositamente per colpire sulle lunghe distanze. Cosa manca ancora? Beh, mancherebbe il piano d'azione, che in realtà viene già abbozzato sempre nella seconda metà degli anni 30, quando lo stato maggiore della marina capisce che gli Stati Uniti sono l'avversario potenziale numero uno e quindi comincia a studiare la possibilità di colpire le basi aeronavali americane, a cominciare da Pearl Harbor. Pearl Harbor però ha delle criticità, a cominciare da un basso fondale, anche abbastanza fangoso, che rende molto molto difficile operare con gli aerossiduranti. Per non parlare del fatto che la precisione del bombardamento, se deve essere un bombardamento d'altura, potrebbe risentirne. A fugare ogni dubbio è l'operazione condotta nel novembre del 1940 dalla Mediterranean Fleet dell'ammiraglio Cunningham a Taranto. La famosa notte di Taranto, di cui abbiamo già parlato in apposito video, sostanzialmente fornisce una sorta di banco di prova operativo per i giapponesi. Se gli inglesi, con una sola portaerei, la Ilustrush, sono riusciti a mettere fuori combattimento tre corazzate italiane, cosa può fare la grande flotta combinata forte di ben sei portaerei, pur a una grossa distanza, nei confronti della flotta americana del Pacifico? La risposta arriva da un ufficiale, il capitano Minoru Uganda. È lui che studia attentamente i piani d'azione per Pearl Harbor. Perché Pearl Harbor? Perché la scelta del Ministero della Marina americano e del Stato Maggiore della Difesa americano ha puntato a concentrare nella base delle Hawaii il grosso della flotta del Pacifico. Si è vero ci sono delle unità dislocate a Manila, c'è qualche piccola unità a Guam o a Wake, ma il grosso, cioè tutte le corazzate disponibili per la flotta del Pacifico e le tre portaerei, più altro naviglio, è distanza a Pearl Harbor. Come disse Cunningham per quanto riguardava Taranto, tutti i fagiani in un solo nido. È lì che bisogna colpire. Per ovviare il problema dei siluri su un basso fondale principalmente fangoso, si opta per adattare questi siluri con degli alettoni di legno, che rendono l'ordigno utilizzabile anche in simili situazioni. Si fanno più e più simulazioni utilizzando le grandi basche idrodinamiche presenti all'interno del Stato Maggiore della Marina Imperiale a Tokyo. Soprattutto si esercitano gli equipaggi della flotta combinata ad agire con rapidità e con estrema risolutezza. Il piano prevede un attacco in tre ondate successive. Il primo per prendere di mira le navi all'ancora, soprattutto le grandi navi all'ancora, corazzate e portaerei. Il secondo attacco per prendere di mira i maggiori campi d'aviazione, ma anche le navi che sono magari sfuggite al primo attacco o che hanno lamentato danni inferiori. Il terzo attacco, la terza ondata, dovrebbe andare a colpire le infrastrutture che sono vitali, cioè i cantieri navali, i depositi di carburante e la logistica. L'obiettivo di Pearl Harbor deve essere moltiplicare l'effetto inglese su Taranto. Non solo mettere fuori uso il maggior numero di grandi navi americane possibile, ma rendere impraticabile la base per lungo tempo in modo tale che gli Stati Uniti non possano pensare di effettuare operazioni offensive per almeno due anni e in modo tale che le operazioni difensive siano estremamente difficili per le forze degli Stati Uniti. Questo è l'obiettivo che viene studiato. Quando le trattative politiche, di cui abbiamo già parlato nel video precedente, entrano nel vivo, ma cominciano a incontrare scogli, perché gli Stati Uniti chiedono sempre di più ai giapponesi, chiedono che ci sia un ritiro vero e proprio dall'Indocina, che ci sia poi anche un ritiro dalla Cina continentale e che vengano abbandonati i regimi fantocci a Nanchino e nel Manchukuo. Ebbene, quello è il momento in cui la grande frotta combinata sparisce. No, non è una sparizione da Udini, non è chiaramente una tecnica utilizzata da qualche mago. Semplicemente la frotta combinata si rifugia in una piccola base nelle Curili Meridionali, una zona non battuta da rotte commerciali e con pochissimo interesse anche per la pesca. La zona ideale dove nascondere una flotta, dove nessuno riuscirebbe mai a trovarla. Quella flotta resterà lì fino alla fine di novembre del 1941, quando verrà dato l'ordine di salpare, l'ordine che arriverà ben prima della data dell'attacco, perché ci vuole del tempo, perché il piano è stato studiato nei mini particolari. La rotta da seguire passerà per le Curili e solo in seguito virerà verso per l'arbo, in modo tale da evitare sia Wake che Midway, cioè i presidi americani nel mezzo del Pacifico. Nulla è lasciato al caso. Ed effettivamente il piano del Capitano Genda è davvero eccezionale. Funzionerà? Beh, ne parleremo nel prossimo video. Grazie a tutti.